La Vigor Senigallia ha organizzato il primo Media Day dove la società ha spalancato le porte ai giornalisti per effettuare interviste, foto e riprese a calciatori, staff e dirigenza. Si è trattato dell'ennesimo positivo esperimento di questa stagione che dai presupposti potrebbe regalare soddisfazioni importanti alla piazza e alla tifoseria. Tra i giocatori della Rosa, rinnovata in tanti reparti, c'è grande entusiasmo. È stata costruita una grande squadra e quindi dovremo provare a fare il massimo sia per noi che per la città che sono alte aspettative in Senigallia, cercheremo di dare queste risposte in campo. Mi sento di ragionare domenica per domenica perché comunque gli avversari sono di alto livello, San Benedetti è su tutto e penso, quindi è giusto che con gli innesti che abbiamo avuto le pretese siano alte, per carità. Però è anche vero che comunque gli avversari ci sono e quindi ogni domenica, non so, frasi fatte, sarà dura. Come lo inquadri questo girone? Un girone tecnico, un girone invece basato sull'agonismo? Sì, io penso un po' di tutto. Anche ci saranno delle squadre che hanno un po' più di grinta, altre squadre come noi che siamo un po' più tecniche, però penso che ogni partita dopo si svolge di una maniera diversa quindi dopo si vedrà tutto, però è un girone molto forte. Un torneo che regalerà tantissimi derby, quali sono le vostre sensazioni da questo punto di vista? Sarà bello, è molto stimolante perché ormai questo stadio si riempie ogni domenica a maggior ragione con tante partite, derby come Ancona, Fermana, Recanatese, ci sarà da divertirsi. Certo, c'è una bella responsabilità verso i tifosi. Sì, sì, sicuramente. Per fortuna abbiamo dei tifosi molto attaccati a questa maglia, molto attaccati soprattutto anche alla squadra e quindi ci accompagneranno nel bene e nel male in campo. Il mister è molto esigente ma è un mister che tira fuori tantissimo da tutti i giocatori. Qual è la tua impressione sul suo lavoro? È più o meno un mese che sto qui, sono 20 giorni e ad oggi il mister è come persona Serie A anche lì in campo prepara bene le partite, allenamenti bellissimi, sempre con palla. È esigente, sì, però ti dà tanto e vuole tanto. Naturalmente il tuo ruolo, oltre a quello di trascinatore della squadra, è anche quello di motivatore, dopo tanti anni di esperienza in questa vigore. Come ti sei trovato con i nuovi compagni? Ma sì, dai, il ruolo di motivatore ce l'hai un po' dentro, quindi cerco di spronare, di dare una motivazione, di far capire la senigallicità ai nuovi e mi sono trovato molto bene. Per i tifosi quante volte pesarei di buttare giù la porta quest'anno? Ma io spero il più volte possibile perché voglio regalare ancora le gioie ai nostri tifosi.